eh bella gente bella gente niente raga male male perché sembra una cazzata però sto volo meritava di più le statistiche parlano chiaro meritava molto di più guarda ve le metto qua un attimo parla di chiaro cioè è una rottura di c***o hai sbagliato tre o quattro occasioni clamorose davanti alla porta non va bene non va bene non va bene perché devi far di più la Champions League devi far di più cioè Fabiani Fabiani è scandaloso Fabiani è scandaloso non può sbagliare determinate cose mi dispiace ma Fabiani oggi si è cagato la partita da sole e vabbè si guarda a casa un punto questo che è il mio volo fuori di Bologna sempre bello fa strano vedere il volo lì però ripeto ci aspettavamo qualcosa in più meritavamo qualcosa in più dispiaminchia il mio capitano quanto è bello dispiace dispiace guarda gli italiani io non capisco una cosa però perché il limone dall'inizio orsorini inguardabile il limone c'è la differenza però sono dettagli dovete comunque cuore buono va bene così va bene così 0 a 0 però rimane tanto tanto amare in bocca guarda gliowaći